WinFestival 2014, qui con noi i fratelli Cominardi Alessandro e Federico per spiegarle alcune delle novità AL360 di questa nuova stagione. Ciao, parto io e ti faccio vedere un attimo la novità sui nostri prodotti. Abbiamo i BOMA, i Carbon Slim, di cui adesso abbiamo cambiato un po' le varie stratifiche, elaborazioni del prodotto, abbiamo alleggerito ancora e abbiamo reso ancora più rigido il prodotto. In più abbiamo dato un look a più accattivante, come puoi vedere, le grafiche sono cambiate completamente rispetto a prima, non c'è niente di particolare di più, è da provare. Ok, allora passiamo la parola a Federico. Ciao a tutti, sono Federico, adesso vi illustro i nostri nuovi prodotti del 2015, sono dei pinini d'albero che hanno anche questi un carbon look innovativo e che diventa il marchio di fabbrica di AL360, ovvero senza vedere neanche il logo, voi capirete da lontano che sono i nostri pinini d'albero. Oltre al look lo sentirete anche dal peso, sono molto leggeri, ma soprattutto dal monoscort blocco che abbiamo qui, che è in acciaio inox, e inoltre attraverso i diversi scarichi avremo una possibilità in più a far sì che la sabbia non si incastri e vada poi a provocare un blocco nella nostra polonga. Noi vado nel 2015. Vi ringrazio per la vostra presentazione, molto concisa ma assolutamente efficace e buon proseguimento. Grazie, ciao! Grazie a tutti!